Alfonso parte all'inseguimento di Adolfina, mentre Emilia nel frattempo è costretta a rivelare a Pepa e a Donna Francisca che suo figlio è stata rapita da sua cugina. A casa del sindaco, intanto, si vivono momenti di grande tensione a causa dell'arrivo del governatore, ma sia Pedro che suo figlio Ippolito riusciranno a districarsi da questa scomoda situazione sfoderando un'insospettabile grinta. Il tutto ovviamente con immensa soddisfazione da parte di Dolores.